ciao ragazzi benvenuti sul nostro canale C.U.I.S. Vepers, io sono Enrico, io sono Michele, stasera parleremo, anzi parlo, del Musa Verde, parleremo del Musa Verde Tornado Juice. Musa Verde, bene, liquido, aroma della Tornado Juice che sa solo e solamente di assenso ragazzi, l'assenso più buono che io ho mai assaggiato è questo, cioè ragazzi fa paura, da guancia, da flower, da cloud, come volete a voi questo aroma rende al massimo, Michele tu che nello stesso momento ce l'ha su la billet, scusami mi ricordavo il nome billet, su questa billet ora andremo a fare una prova di swap, una nostra considerazione finale, a tra poco, ciao, ciao, è un bel tiro quello, maneggere con cura questa billet, la billet è tutta buona ragazzi, certo, la billet è tutta buona, maneggere con cura perché non ce ne sa mai, 4 posti, ciao, vediamo, è fondata, poco da dire, questo secondo me è in assoluto il mio all day preferito, io lo swap parecchio, sta bene davvero con tutto, sta bene durante la giornata, mentre stai guidando, sta bene dopo i pasti, perché non è invasivo, sta bene con il bicchiarino, sta bene dopo il caffè, fantastico ragazzi, io, questo è stato un liquido che io ho provato anche da flower, con un Adaly 22 Pico Squeeze, cioè ragazzi, fantastico, fantastico, ho lo swap da guante, lo swap da flower, da cloud, è un liquido che non distante, cioè non cambio, lo lascia macerare un anno, lo swap subito, è sempre quello, è buonissimo ragazzi, buonissimo, a me è voto 10, assolutamente, voto 10, anche per me, i ragazzi da Tornado Juice qui ci hanno preso in questo, questo è il vero assenzio, sì, questo a livello di maturazione, io lo tengo lì una settimana prima di svaparla, ma secondo me anche dopo due giorni è già buono, questo qua credo che lo fanno, in tempo di scenerate, assolutamente, questo qua, non è veramente un difetto, io sono convinto che in generale sia il migliore aroma della Tornado Juice, dal mio punto di vista, forse anche l'assenzo che c'è in giro, non so se ne fanno, forse qualche casa l'ho fatto, però, sì, sì, no, qualche casa c'è, io altri non ne ho provati, perché mi sono innamorato di questo, ma questo è, è una cosa, ragazzi, c'è provatolo perché è buonissimo, cioè se a uno non piace l'assenzo, quindi il gusto, diciamo, sì, milanice, per capirci, allora no, però se a uno gli piace la tipologia di sapore, che è, diciamo, un gusto particolare, se a uno piace questo va assolutamente provato, perché meglio di questi si fa fatica, assolutamente, ragazzi, al prossimo video, alla prossima, ciao ciao!